Cosenza errende verso la città unica e l'idea della Lega è di modo più particolarissimo Naluizzo, capogruppo del partito di Matteo Salvini alla Regione Calabria, ma dallo scorso 25 settembre eletta la Camera dei Deputati. Un'idea che ha trasformato in proposta di legge, un referendum popolare dove i cittadini si dovranno pronunciare. Spero di essere relatora di questa legge prima di lasciare ovviamente il Consiglio regionale per la Camera ed è un'idea antica che è passata attraverso tutti i colori politici e domani ne parleremo insieme a quelle che sono state le professionalità più importanti che hanno contribuito all'idea di una grande Cosenza. Una fusione delle due città, Cosenza e Rende, per l'esponente leghista potrebbe rappresentare una svolta per l'intero territorio, specie adesso con l'arrivo dei tanti fondi comunitari. Intanto creare anche un argine, perché lei come sa abbiamo Reggio, città metropolitana, e quindi fare da contraccolpo al Reggio Calabria e quindi anche a Messina, l'altra grande città metropolitana, Cosenza potrebbe riequilibrare al nord questa potenza di fuoco legata al maggiore arrivo di fondi istituzionalmente affidati alle città metropolitane, il ripiano del dissesto, una economia migliore dal punto di vista della gestione dei servizi, pensi soltanto per dire alla città universitaria, all'ospedale universitario, ma anche alla gestione comune dei rifiuti.